Ciao caro, se sei vegano come noi mi sarebbe riconosciuto il posto, siamo a Roma, a Campo dei Fiori, a Piazza del Paradiso per la precisione, questo è un universo vegano, una specie di McDonald's, però se mangia vegano, e quindi niente, vengono già più soldi da buttare, gli vengono a buttare, i ragazzi sono molto simpatici, molto fanno finta di lavorare, però al genere, se parlano dei ragazzi, sono molto simpatici, e c'è una mafta scelta dei panini, tanto so, tanto 16, quindi qua, proprio niente, non rischi di sbagliare, cosa sbagliata, poi fanno pure le prospette a quelli 10 panini, e vedi un motore, c'è fuori ci sono i croccantini, l'acqua vegane, che voglio, il nicotino che abbiamo avuto due volte, è felicissimo, quindi niente, pubblicizzo, ve lo consiglio, è bella per voi, ciao! Ciao!